Il Consiglio regionale ha approvato il conto preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia regionale di sanità Arts, con 19 voti a favore e 11 voti contrari. L'aula si è espressa dunque a maggioranza sulla richiesta di parere al Consiglio regionale e sull'assegnazione di risorse finanziarie per l'esercizio 2025. Il Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sustegni, ha illustrato il ruolo dell'Arts nel momento attuale, come pure nel periodo della pandemia. L'Agenzia regionale di sanità è un punto di riferimento per tutti gli operatori, per la politica, direi anche per i cittadini, basta andare sul sito e vedere gli innumerevoli lavori che producono continuamente, i ricercatori che fanno capo all'Arts. Un punto di riferimento perché quando si parla di sanità è necessario partire dai dati, è necessario partire dalle analisi e quelli che l'Arts fa sono un punto fondamentale che noi abbiamo usato anche quando abbiamo fatto il percorso degli Stati Generali della Salute, se no si rimane alle opinioni e invece le discussioni politiche vanno fondate sui dati. Durante il Covid ovviamente l'Arts ha svolto un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'epidemia, ma volgeva ruoli fondamentali prima, continuerà e sta continuando anche ora a analizzare tanti aspetti e ricordo il piano su Welfare che annualmente fa l'Agenzia e che ci rifà un quadro generale di quello che è lo Stato di Salute dei nostri cittadini. Secondo il consigliere Andrea Ulmi il bilancio, anche se non mostra grossi problemi, è quasi autoreferenziale. Da qui il voto contrario. Dunque l'Agenzia di Sanità è una valutazione positiva perché è un ente tecnico, un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la politica pone. Evidentemente però non vengono posti in maniera adeguata se il risultato è una sanità di questo genere, dove si dice tutto il contrario di tutto. Naturalmente essendo il bilancio di Arts un'emanazione diretta della Giunta, è ovvio che noi non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche non potevamo che votare contro. Il bilancio di previsione 2023 dell'Arts è costituito da un fondo ordinario di 3 milioni e 415 mila euro, uguale a quello dell'anno scorso e da altri finanziamenti per attività progettuali e di ricerca, per un ammontare di 1 milione e 260 mila euro. Anche per l'anno 2025 si è preso atto della previsione dalla conferma del finanziamento del fondo ordinario di gestione per Arts di 3 milioni e 415 mila euro. Si è tenuta nella sala Gonfalone a Palazzo del Pegaso a Firenze la cerimonia di conferimento del Gonfalone d'Argento alla Compagnia della Fortezza, che da anni opera con i detenuti del calcere di Volterra. A consegnare la più alta onorificenza del Consiglio regionale è stato il Presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo. Sono davvero orgoglioso di poter conferire il Gonfalone d'Argento alla Compagnia della Fortezza. Perché? Perché il grado di civiltà di un paese si misura dalle condizioni delle sue carceri. Il carcere deve essere sempre più un luogo di rieducazione, di rinserimento nella vita sociale e lavorativa. E quello che fa la Compagnia della Fortezza è qualcosa di importante. L'arte, la cultura rendono le persone più liberi, rendono le persone migliori. E sono orgoglioso perché la Toscana, che è stata la prima terra al mondo ad abolire la pena di morte, oggi è anche la prima e la prima realtà a consentire che ci sia un teatro all'interno delle carceri. È qualcosa di grande e di stupendo che noi continueremo a sostenere. Ho avuto l'opportunità più volte di toccare con mano questa esperienza, anche all'interno delle carceri. Devo dire che ho trovato in tanti reclusi, in tante donne e tanti uomini che sono all'interno di quel carcere, la voglia e la speranza di tornare ad una vita nuova, tornare con un reinserimento lavorativo, tornare ad essere persone migliori. La Compagnia della Fortezza nasce nel 1988 nel carcere di Volterra, da un'idea di Armando Punzo, suo attuale direttore artistico, leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia Teatro 2023. Ed è oggi annoverata tra le eccellenze del panorama teatrale contemporaneo internazionale, per il rigore della sperimentazione registica e drammaturgica. Tra le caratteristiche della compagnia, la seduità e la continuità del lavoro svolto con i detenuti, un modello artistico e culturale innovativo a livello mondiale. Il riconoscimento è stato ritirato in maniera corale da Armando Punzo, regista e fondatore della Compagnia della Fortezza, Cinzia De Felice, direttrice organizzativa e curatrice dei progetti della Compagnia della Fortezza dal 1992, Andrea Salvadori, musicista e compositore delle musiche di scena della Compagnia dal 2009, e da Paul Koscian e Lucio Di Iorio, attori detenuti della Compagnia. Io credo che questa sia quella della Compagnia della Fortezza, che ormai è arrivata a 35 anni, credo che sia proprio un'esperienza che in qualche modo dice molto anche sulla regione toscana, proprio su questa regione e sulla sensibilità che evidentemente ha sempre avuto e ha su questi temi. Oggi arrivare a questo premio per noi è un risultato importante, proprio anche da questo punto di vista, oltre che il piacere proprio di stare qui, chiaramente. 35 anni di lavoro dove abbiamo in qualche modo trasformato l'Istituto di Pena di Volterra, la Casa di Revoluzione di Volterra, in una sorta di istituto di cultura. Sembra una cosa impossibile, sembra quasi un'esagerazione a sentirmelo dire anche a me stesso, però sta di fatto che da allora, 35 anni fa ad oggi, il carcere di Volterra è diventato un carcere all'avanguardia per quanto riguarda il teatro e le attività trattamentali. Quindi è un risultato, credo, straordinario, che anzi penso che debba essere questo premio, forse lo farà ancora di più riconosciuto e conosciuto non solo nella Toscana, ma ancora di più in Italia e anche nel mondo. Presente Dario Danti, Assessore alle Culture del Comune di Volterra. Questo è un riconoscimento molto importante che si unisce a un altro riconoscimento importante che è quello del leone d'oro alla carriera attribuito dalla Biennale di Venezia ad Armando Punzio e alla Compagnia della Fortezza. È un orgoglio per la città di Volterra ricevere questi importanti riconoscimenti proprio all'indomani dell'anno 2022 nel quale Volterra è stata la prima città toscana della cultura grazie al riconoscimento della regione toscana. Si uniscono questi riconoscimenti a un altro fatto molto importante, sempre per i detenuti attori, per la Compagnia della Fortezza, ovvero l'avvio del progetto che porterà ai lavori per la realizzazione nel carcere di Volterra del teatro stabile. Un sogno che Armando Pulzo contiva da oltre 20 anni, un riconoscimento per gli oltre 35 anni di attività della Compagnia della Fortezza. L'Imboscata, Fogliano della Chiana, 1921, un episodio di guerriglia sociale. Questo è il titolo del volume di Giorgio Sacchetti, edizioni dell'Assemblea, presentato nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso. Sì, questo è un libro che rappresenta una memoria storica basata su testimonianze scritte e testimonianze orali che credo faccia giustizia di quello che è un fatto che è stato appunto l'imboscata di Renzino, così è stata etichettata, che racconta quella che è stata la reazione nei confronti della nascente oppressione fascista. Credo che possiamo dire che la resistenza al fascismo, al nazifascismo, che molti collocano nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, quindi la resistenza alla lotta di liberazione, in realtà può vedere l'inizio della resistenza al fascismo nascente, a Foiano, legato a questi fatti, alle lotte dei braccianti, in Valdarno, legato alle lotte dei minatori. Quindi un filo rosso che lega appunto quello che è stata la lotta di liberazione, che è stata la resistenza alla Seconda Guerra Mondiale, a questi fatti che invece sono i fatti della post-prima guerra, quella del 15-18, quando il fascismo appunto stava nascendo, ma già stava mostrando quella che era la vera faccia, con tra l'altro un debole Stato, che era lo Stato ciolittiano, che magari dava degli ordini che non trovavano esecuzione invece nelle rappresentanze territoriali, né prefettizzi, né delle forze dell'ordine, che andavano invece sempre più in connivenza con quello che era il nascente partito fascista, le sue prepotenze, le sue prevaricazioni. L'autore, Giorgio Sacchetti, professore di storia culturale e sociale dell'età contemporanea dell'Università di Firenze, spiega nel dettaglio i contenuti del volume. Assume una certa importanza perché è il primo lavoro che venne fatto attraverso l'utilizzo delle fonti giudiziarie. A Foiano della Chiana furono coinvolti oltre un centinaio di persone in questi fatti e per cui le fonti giudiziarie del processo, che si potevano vedere soltanto dopo 70 anni dalla celebrazione, sono stati il punto di partenza. Insieme a questo punto di partenza delle fonti giudiziarie, oltre a quelle tradizionali, delle carte di polizia che utilizziamo noi storici, c'erano anche le fonti orali raccolte da Ezio Raspanti. Ezio Raspanti, che era stato un partigiano, in qualche modo aveva raccolto l'eredità dei fatti successi nel 21. Un artista, anche perché ha disegnato degli ottimi disegni a commento del libro, della ricerca, e che però ha avuto modo, per ragioni anagrafiche, di intervistare subito dopo la Seconda Guerra Mondiale i protagonisti dell'epoca. E' interessante anche fare questo raffronto fra il presente di allora e il passato del 21, nel senso che è mettere a fronte queste fonti orali, come si fa didatticamente, insomma con le fonti giudiziarie che fermavano, che rappresentavano il punto di vista spesso dei carabinieri, della polizia, e che fermavano quest'argomento al 1921. Poi l'evento fu complesso nei suoi fatti, si trattò di incursioni fasciste, alle quali rispose un'insorgenza popolare che causò tre vittime, alla quale a sua volta fu risposta una rappresaglia, una rappresaglia che rappresenta una novità nel Novecento. A parte erano successi alcuni casi importanti ai margini della Prima Guerra Mondiale, ai confini franco-belga c'era stato il genocidio degli armeni, ma lì, da un punto di vista politico, è un esempio unico, il primo in Italia, credo, perché si colpiva una comunità indipendentemente dall'interesse a cercare i responsabili veri di quella che era stata la risposta armata alle incursioni fasciste. E quindi viene fuori quello che era il concetto espresso da Anna Arendt, cioè la creazione di un nemico oggettivo, cioè un nemico che è nemico in quanto, in quel caso, appartenente a una comunità territoriale, tant'è che si incendiarono casolari a caso, si ammazzarono persone incontrate per caso, eccetera. Quindi è importante, è paradigmatico questo esempio, non solo come storia di una comunità locale, ma anche per la storia intera dell'Italia, tant'è che il mito dei fatti di Renzino, di Foiano della Chiana, sarà un doppio mito, un martirologio fascista, perché, ad esempio, nei decenni successivi, fascisti e fortuna solo due, si celebrò questo anniversario del 1921, e anche con eco nazionale, mentre invece durante il 1943-1945 il mito di Renzino ritornò come mito dell'insorgenza popolare antifascista. Ecco, e questi sono gli aspetti detti in poche parole, diciamo, fondamentali di questo studio. Grazie per la visione!